Né plenumum vian capon per mar tranquilligai pensoi. Facile scriviti on ciù? C'è la primavera in Nederland che ci sono i miei figli che ci sono i miei figli che ci sono i miei figli che ci sono. È in un'ottima trincheio dell'università, che vi posso vedere, e sì, è un po' tranquillità e penso in mia capo, che non posso evitare questo. Ma vivo dauroso, e mi dauroso l'anto medito con voi, e se non mi annuncio questo, se non ci sono più troppo isolato. Per un momento, resto con noi, con me dito, con noi, grazie. Saluto, e buon venito a mia nuova Zamenhof a medito. Post la successo, pri la mensio de Zamenhof, ciel europisto, io sense, mi daurigas la legadon cae cun meditadon sur la vortoi della tractaggio post la granda milito, che io aperis in la jaro 1915. Mi legas il pagio 3056. Mi stia strebone che la malamo interlagentoi ne malaperos subite in uno tago, che am ein aranjon la diplomatoi faros. Sed, per tio poste, laboros iam personoi privatae per predicado, educado, alcutimigado, cotopo. De vi diplomatoi, mi attendas nur, che vi donu al ni la eblon tion fari. Carai misiatas multe tiunci el tiron. Ciar tio clarigas bone, lau mi, la opinion che un Zamenhof havis rande della fino desia vivo, facte, per la rolo della povulloi, della estraranoi della sozio, cae la rolo della educantoi. Facte, la diplomatoi chiui estis, che estas ancora comprenneble, la rappresentantoi della registraroi, della regnoi in tiu tempo do, della landoi, della statoi, non tempe, havas lau Zamenhof la rolon eblighi laclerigadon della omoi per predicado, alcutimigado ed o alcutimigio, mi diros odiau, cae educado per i nuovi ideoi. ciai sainas al mi che in la non-tempa situazio, chiun ni ciui estis vivantei, in la tuta mondo, tiu estis la pandemio, tiu rolo della omoi, chiui havas la povun, estis iel perdita. Ciar la educai istituzioi, a parte la lerneioi, cae la universitatoi, multe suferas, cae ogni ciam parola spri ne perdi economian avvantagion, savi la compagnioin, la firmaoin, la intrapreneoin, sed, tiu estis la rolo della mercato? ciai la rolo della Stato estis alia. La Stato devas eblighi la mercato. Almeno tiu sainas esti la ideo della maliuna zamen hofni diru, cae tiu ancaus pov, ancau, tiu ancau povas applicigi alla aliro al esperanto. Do, amba o flancoi, la stiel nomata desuprismo, cae desuprismo, devas activigi. Ciar, ali flanche, la afero riscas stagni. Tiu estis mia instigo porcum mediti. Cio estis la rolo della povului in la covima mondo? Tiu estis buona demanda, cae mine havas rispondon. Nur spuroin por mediti cune. Dankon, provia attento. Gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine. Gis morgau, cae mine havas rispondon. Grazie. 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 Grazie.